Paura e danni a Lusiana Conco, dove una macchina con due giovani a bordo si è ribaltata sulla strada per Asiago. L'incidente è avvenuto con tracciscati a Conco e per motivi ancora da stabilire. Secondo le prime informazioni pare che la Fiat 500 sulla quale viaggiavano le ragazze sia salita con le ruote sul cordolo di pietra, perdendo aderenza e cappottandosi in mezzo alla carreggiata. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Asiago che hanno messo in sicurezza l'area e il veicolo. Le operazioni sono andate avanti fino a tarda sera e i carabinieri hanno deviato il traffico. Entrambe le giovani occupanti della vettura sono state portate in ospedale a Bassano del Grappa. Pare che le loro condizioni non siano gravi.